Gli argomenti che abbiamo messo a fuoco con il tavolo della tecnologia, qui è una sorta di percorso quello che è stato costruito, una sorta di processo a 5 step che vorremmo vedere emergere nell'agenda della regione Lombardia. Qui abbiamo anche sottolineato il fatto che davvero si parla sempre di tecnologia perché ci sono i soldi, il PNRR per tante ragioni e poi negli ultimi tempi ancora di più, ma manca completamente un quadro davvero sistemico in questa regione e manca soprattutto un presidio. Con chi parlo in regione di innovazione tecnologica oggi sulla sanità fai fatica a dire dove andare. Allora abbiamo bisogno di una cabina di regia regionale stabile, strutturata, con una responsabilità chiara, con un disegno programmatico che ci dica come la regione vuole trasformarsi tecnologicamente nei prossimi 5 anni, come vuole accompagnare le trasformazioni del settore, con l'individuazione delle priorità e l'apertura di dialoghi con tutti quelli che contribuiscono alla produzione di innovazioni. Oggi non c'è, come potremmo davvero chiamare, una funzione di steering da questo punto di vista. Con una visione a programmazione regionale che ci aiuti a capire se effettivamente abbiamo messo a fuoco tutte le priorità e se c'è un disegno organico e sistematico di accelerazione e di introduzione dell'innovazione nel sistema. Avremo modo di discutere con i discussant dove siamo da questo punto di vista, lo stato dell'arte e le difficoltà che ancora oggi troviamo in molte realtà aziendali, anche solo nell'avere un quadro di riferimento da questo punto di vista perché manca evidentemente una spinta poi da parte della governance a produrlo. Terzo punto, una mappatura delle innovazioni che sono presenti, la possibilità di avere un po' di intelligence che ci aiuta anche a fare condivisioni di buone pratiche, un po' di benchmark, un po' di possibilità di costruzione di reti e sinergie tra le varie realtà aziendali. Non è facile, è una regione grande, stiamo parlando praticamente di uno stato se lo compariamo al resto d'Europa, però a maggior ragione per essere ambiziosi bisogna avere davvero una lungimiranza da questo punto di vista nel pensare che non possiamo rincorrere all'innovazione tecnologica ma la dovremmo guidare in una regione di questo tipo con le possibilità che ha e con i protagonisti che sono seduti in questa sala e che appartengono al sistema. Snellire le procedure di accesso all'innovazione, dal modo con cui vengono erogati i finanziamenti sino a tutto il tema di introduzione sul mercato dell'innovazione, qui nel libro trovate la descrizione più puntuale delle azioni, e poi introdurre una vera e propria politica di premialità all'innovazione che possa essere davvero mordente rispetto al fatto che se uno mette sul mercato, dopo tutta l'altra fila, qualcosa che fa la differenza, che fa la differenza, il sistema glielo deve riconoscere, che quella cosa fa la differenza sugli outcome, sulla salute, sulla trasformazione dei processi. Non sono tutti uguali le innovazioni ovviamente e poi soprattutto, come dire, ci raccontano, se c'è una cosa che gli economisti ci hanno raccontato giusta, che l'uomo è mosso dagli incentivi, che siano quelli etici, morali o che siano quelli economici, da qualche parte sfide o soldi bisogna metterli sul piatto. Vi fermo subito qua perché abbiamo quattro discuss, direi di iniziare dalla dottoressa Bottinelli, se ci date una mano a capire se questi punti sono quelli centrati e soprattutto da qui cosa fare. Grazie, grazie dell'opportunità. Nel tavolo noi abbiamo sentito l'esigenza di inserire questo tema della mappatura della cabina di regia. Perché? Perché la Regione Lombardia può effettivamente, co-petendo, come dicevi giustamente tu, acquisire e essere un centro di raccolta dell'innovazione. Cioè noi dobbiamo porci l'obiettivo di competere a livello internazionale e vedere l'industria come partner in questo possibile sviluppo che la Regione può avere come centro di innovazione. Allora, in questo noi dobbiamo fare rete. Non dobbiamo vederci come dei singoli. Abbiamo delle reti importantissime, che è quella delle reti degli IRCS Lombardi, ma abbiamo anche degli ospedali di grandissima eccellenza. Allora dobbiamo cercare tutti quanti di lavorare insieme per portarci a casa queste innovazioni. L'altro tema è quello ovviamente poi di misurare l'impatto che questa innovazione ha, l'impatto ovviamente sui pazienti da una parte e sull'organizzazione dall'altra. Questa è la sfida nostra di manager, quella di non pensare che l'introduzione dell'innovazione non cambi niente nell'organizzazione, ma debba necessariamente cambiare e modificare e migliorare l'organizzazione. Che sia un'innovazione tecnologica, tanto più un'innovazione digitale, ma noi dobbiamo rivedere come facciamo le cose, in modo, come si dice, molto più lean, cioè in modo da non ripetere e non ridondare i processi. Quindi lavorare insieme, ma per lavorare insieme dobbiamo effettivamente sapere cosa c'è oggi, dobbiamo avere un interlocutore e dobbiamo quindi tutti quanti con le nostre competenze dire in modo molto onesto quali siano le nostre competenze, perché abbiamo parlato prima anche delle nuove figure professionali che sono necessarie. Ecco, quindi mettere a disposizione ognuno quelle che ha come competenze è proprio per aiutare il sistema a crescere, a migliorarsi e essere poi un benchmark per gli altri. Grazie Stefano. Andiamo in ordine anche alfabetico, mi sembra di intuire, ma tu hai un'azienda pubblica, un RCCS, quindi è un luogo che dovrebbe essere deputato all'innovazione. Il tuo punto di vista? Sì, riprendo brevemente alcune cose che sono state osservate precedentemente, perché volevo stressare alcuni concetti. Carlo prima ha parlato che la situazione emergenziale ci ha insegnato da giro in fretta, però la dottoressa Cupone anche aggiungeva il fatto che però non possiamo vivere costantemente in un'ottica di emergenza. Bisogna cominciare a programmare. Qualche anno fa, devo dire in Humanitas, occupandomi della tesi di Enmas, che ho fatto uno studio su Humanitas, appunto si sosteneva e ho apprezzato questa cosa, che anche l'emergenza può essere programmata. Forse il Covid è stato un'emergenza straordinaria, difficilmente programmabile, eccetera, eccetera, però bisogna entrare in quest'ottica di programmazione. Dove abbiamo fallito essenzialmente? Abbiamo fallito nel programmare precedentemente una strategia di intervento di fronte a eventi di questo genere. Allora, innovazione e anche e soprattutto programmazione. Questo è il primo concetto, secondo me, importante. In uno scenario che richiede un cambiamento, è stato anche prima sottolineato questo, che non può essere un cambiamento in continuità col passato. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento disruptive, come si vuol dire, cioè un cambiamento che rompa con alcune cose, concetti del passato, eccetera, particolarmente sulla organizzazione. Passare dalla competizione alla competizione non è semplice, è un passaggio difficile, però di cui abbiamo bisogno. Per arrivare alla competizione bisogna parlare anche di reti, quindi anche un processo di innovazione organizzativa. Secondo me abbiamo parlato troppo spesso di reti e realizzato molto poco le reti. Le reti vuol dire DM70, vuol dire DM71 che adesso verrà. Non si può pensare a una rivoluzione sul territorio senza creare una rete ospedale di territorio, sapere chi fa che cosa e avere anche il coraggio di scelte che forse potrebbero essere anche impopolari sulla distribuzione, su chi, dove devono essere fatte alcune cose e dove non devono essere fatte. Si è parlato molto di eccellenza. L'eccellenza non è soltanto, noi ci riempiamo la bocca troppo spesso, io che parlo particolarmente degli istituti tumori, siamo un istituto d'eccellenza. L'eccellenza la creiamo tutti i giorni, non è una definizione che vale per sempre, la creiamo mettendoci in collaborazione con gli altri, magari copiando alcune cose che non sappiamo fare bene. È chiaro che tutto questo deve essere accompagnato da un cambiamento anche culturale, che non si fa in un anno, non si fa in sei mesi, non si fa in un anno, se non si inizia a fare non si farà mai. Quindi l'approccio all'organizzazione deve necessariamente cambiare con il coinvolgimento dei professionisti. Non in senso di cerchiamo il consenso dei professionisti, così stiamo a galla, non è questo il senso. Il senso è lavoriamo con i professionisti per crescere insieme, senza avere la pretesa di insegnare tutto, ma magari avendo la pretesa di trasmettere alcuni concetti base del management, Federico lo diceva prima, che devono essere condivisi nell'ambito dell'azienda. Dobbiamo passare necessariamente come innovazione, credo, da un'organizzazione che è un'organizzazione tipicamente per silos organizzativi, in cui ognuno ha il suo, e su questo devo dire che mi è sembrato di capire che alcune esperienze nel privato siano più avanzate, e forse qualcosa dobbiamo impararlo, i miei letti, i miei infermieri, la mia caposala, le mie sale operatorie, i miei slot, eccetera, eccetera. Non funziona. Non funziona perché dobbiamo agire in un modo diverso, dobbiamo mettere a fattura comune delle risorse, dobbiamo valorizzare certe professionalità. E anche questo è stato detto, continuiamo a dire che mancano i medici, basta guardare le statistiche e tutti vedete che il rapporto agli altri paesi occidentali non siamo numericamente, poi come età sì, siamo in difficoltà, ma numericamente non siamo in carenza di medici, paragonando banalmente i dati, siamo in carenza di infermieri, in maniera drammatica. E questo bisogno di portare anche la sanità sul territorio evidenzierà ancora maggiormente questa situazione di criticità. quindi un po' di skill management, innovazione e anche, o innovazione nella ridefinizione dei ruoli, lo diceva anche Federico prima, cioè responsabilizzare maggiormente le professionalità sanitarie non mediche, soprattutto in ambito organizzativo. Non è detto che il miglior chirurgo, sia anche dell'ospedale, sia anche il miglior organizzatore di risorse. Spesso è il contrario. E anche non è detto che chi ha più alti ruoli siano solo loro i fattori di cambiamento. Chi ha più da perdere, normalmente, cerca di conservare l'esistente. Chi ha più da guadagnare, è più disponibile a contribuire al cambiamento. Scusate, sono banalizzazioni, però mi sembrano elementi essenziali quando parliamo di innovazione. Poi c'è l'innovazione tecnologica, l'innovazione delle reti, eccetera. Però per pensare in maniera razionale, ragionevole, programmata all'innovazione tecnologica, bisogna avere in mente dove vogliamo andare. Come diceva Toto, ma per andare dove dobbiamo andare, dov'è che dobbiamo andare? Ecco, se no, se non sappiamo dove vogliamo andare, diventa molto difficile programmare delle reti, anche di supporto tecnologico, al nostro cammino. Un altro tema, credo, del futuro, sempre nell'ambito dell'innovazione, particolarmente organizzativa, è il tema del value-based, cioè passare appunto da una concentrazione soltanto sui volumi alla concentrazione sui processi, processi di cura. Il paziente, a me capita spesso quando facciamo collegi di direzione, non vede mica l'organizzazione come la vediamo noi. Non è che vedi sì, lo squaladice al reparto, chi è quello. Il paziente vede il percorso di cura che deve fare, il processo che deve affrontare. E molte delle difficoltà dei nostri pazienti sono legate non tanto al core, cioè alla parte di cura, alla parte degli interventi li facciamo bene, secondo me curiamo bene, eccetera. Questo in maniera generica un po' in tutto il paese, particolarmente in questa regione. Quello che il paziente ha difficoltà a entrare in processo di cura, cioè meccanismi di accesso, anche qui bisogna lavorare, e poi uscire. La difficoltà che abbiamo è come entrare e come uscire dai processi di cura e come essere seguiti nel lungo termine. Quindi passare appunto da questa visione che è tutta concentrata sui volumi a una concezione che sia più incentrata appunto sui processi di cura per il paziente che è quello che il paziente vede. Partiremo e chiudo tra poco con i nuovi post, all'indomani della legge di riforma che è stata recentemente approvata, ci saranno i nuovi post. Io mi auguro che sia anche quella una straordinaria occasione non per scrivere dei volumoni di carta da mettere in qualche armadio, ma per cambiare l'approccio organizzativo dell'azienda in modo innovativo. Vedere l'azienda più in modo orizzontale, meno verticale, più per processi, meno per silos. Entrambi, sia la Bottinelli che Manfredi, ci hanno richiamato a tema della programmazione humanizzata, la programmazione e la fama. Se io guardo l'innovazione tecnologica che oggi è veramente amplissima, che va dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, alla robotica, ai farmaci intelligenti, come si fa a guidare tutto questo? Credo davvero che quello che ci stiamo dicendo sia il core del problema. Voglio toccare anche per motivi di tempo forse due punti specifici. Uno, io accopio al tema della programmazione un tema di misurazione. Cioè quindi secondo me è fondamentale che impariamo tutti a confrontarci su dati e indicatori. la Regione, noi che lavoriamo nelle aziende, come giustamente Federico tu ci hai detto prima, i medici e gli operatori sanitari. Ecco, in Humanitas abbiamo da sempre il culto, la mania della misurazione. Io credo che questo serva davvero a due temi. A fare qualità, cioè a migliorare quotidianamente la qualità e in qualche modo cercare di rendere il sistema il più sostenibile possibile. Perché quello che diceva prima il professor Pellissero è indubitabile. E noi parliamo di ampliare le risorse al territorio, parliamo giustamente di prevenzione, però più o meno i malati ci sono. Forse riusciremo a ridurre la cronicità, ma certamente non nel breve periodo. Quindi il tema della misurazione secondo me è fondamentale, anche perché, come diceva giustamente Manfredi, io penso che in prospettiva dobbiamo anche abituarci maggiormente e qui è il tema della premialità sull'innovazione a dire che non tutti debbono fare tutto. Noi continuiamo a non avere il coraggio di dire che alcuni fanno indubbiamente bene perché li misuriamo e quindi per volumi e per outcome fanno e debbono continuare a fare e altri forse meglio che si dedichino ad altro. Quindi non necessariamente dobbiamo chiudere reparti, però con le liste di attesa che abbiamo anche in Lombardia, la programmazione dice facciamo sì che facciano bene coloro che sanno fare e cerchiamo eventualmente di lavorare skill mix sul far sì che cresca certamente il livello medio del sistema. Quindi il mio primo punto è misurazione. Secondo punto, giustamente è stato introdotto un tema di value based, di valore. Quindi anche qui dobbiamo portare il sistema a ragionare sempre di più in termini di percorsi. Questo in qualche modo lo stiamo implicitamente dicendo, collegamento ospedale-territorio, integrazione, un ruolo diverso del medico di medicina generale. Però anche qui se non prepariamo il sistema a dire meno silos e più capacità di leggere e quindi di misurare i percorsi del paziente, attenzione, rischiamo di dirlo, ma che non capiti più di tanto. Chiudo dicendo che l'innovazione, che poi è il punto, è certamente tecnologica e quindi anche in questo caso, io penso, ma con alcuni pochi esempi, non è che tutti dovranno fare chirurgia robotica, non è che tutti dovranno mettere le TAVI, non è che tutti dovranno aprire una nuova sezione di robotica in ambito ortopedico. Giustamente, abbiamo detto competizione, giustamente misuriamo e in alcuni casi si potrà anche definire chi deve fare cosa. Perché altrimenti davvero le risorse non le abbiamo. quindi il tema è innovazione tecnologica e poi non dimentichiamo, noi qui rappresentiamo fondamentalmente degli IRCS pubblici e privati che una delle missioni dell'IRCS o degli IRCS è anche il tema dell'innovazione organizzativa. Quindi riprendendo il tema dei processi, io penso, lo vedi in Humanitas, il digitale nel momento in cui abbiamo una cartella clinica elettronica, nel momento in cui i processi di prenotazione, pagamento eccetera, tutto è digitale. Beh, effettivamente anche come percorso riusciamo a fare innovazione e questo nel momento in cui non parliamo di casi pilota ma cerchiamo di condividere best practice nel sistema, questo aiuterà il paziente in primis e magari anche un certo tema di nuovo di risorse scarse da condividere. Chiudo ultimo punto, l'innovazione è giustamente anche un'innovazione di ruoli. Cioè, non è possibile che noi abbiamo detto giustamente noi manchiamo di infermieri più che di medici. Però forse oltre a dire se non abbiamo in testa che dobbiamo formare più infermieri non ci metteremo sei mesi ma cerchiamo anche di cogliere l'occasione per capire se l'infermiere può fare qualcosa di più e di diverso di oggi e quindi magari abbiamo nuovi ruoli che possono aprirsi e magari utilizziamo anche meglio i medici che abbiamo come giustamente prima si diceva io non sono esperto di guardia medica però anche io avrei qualche dubbio sul fatto che utilizziamo bene i medici che comunque sono una risorsa che continuerà a essere preziosa stante il tema dell'età anagrafica. Gianluca. Grazie. Federico, buongiorno a tutti. Molto è stato detto adesso è difficile aggiungere degli ulteriori elementi di riflessione. Io ho provato a commentare alcuni aspetti del mondo che conosco meglio che è quello della ricerca dove alcune delle riflessioni che sono state fatte anche adesso a questo tavolo si ritrovano intatte a partire dal tema appunto del fatto che insomma è vero raccontarci che ospichiamo una serie di cose però bisognerebbe cercare di portarle anche a terra. Allora secondo me i punti fondamentali sono il primo quello della regia o comunque di un luogo fisico dove si possa ricondurre una riflessione una discussione e una programmazione o un tentativo di programmazione sugli aspetti diciamo di ricerca e ricerca innovativa qui si è parlato molto di device di parte di intelligenza artificiale è un mondo molto complesso anche per quanto riguarda la parte diciamo di biologia dei farmaci che sta che sta cambiando un po' il sistema di cura di molte patologie secondo me un punto che viene un po' forse trascurato è che ci vogliono delle competenze per affrontare questi temi sono temi nuovi non facili a me è capitato in questi mesi di parlare con molti che lavorano in questo settore anche in molte aziende uno dei temi che viene riportato sempre secondo me un po' sottovalutato è questo ostacolo delle normative sulla privacy che viene continuamente evocato come un punto di difficile superamento nell'interlocuzione con le strutture sanitarie regionali giusto l'altro giorno mi è stato raccontato non di regione Lombardia e secondo me questo è un tema che non può essere affrontato dagli uffici legali delle regioni così come sono costruite adesso non hanno la competenza per rispondere a quesiti che sono molto complessi in una situazione come quella europea che è molto più complicata per esempio di quella americana FDA ha licenziato a settembre linee guida per l'uso dei real world data per le aziende e il tema della privacy sì è citato per la nominizzazione dei dati ma insomma rispetto a regolamenti europei è un sogno è un altro mondo quindi è solo un esempio Federico però io sono convinto che su temi di questo tipo si debba reclutare del personale è competente perché non tutti possono fare tutto insomma detto molto semplicemente insisto anche sul tema dei dati anche se sta diventando un po' quasi un refrain scontato secondo me non lo è non lo è e credo che il tema adesso non sia più tecnico secondo me gli ostacoli per l'utilizzo dei dati non sono più tecnici persino sull'interoperabilità dei passi avanti si sono fatti ci sono dei sistemi ormai che possono essere utilizzati e condivisi come tu hai ricordato a mio modo di vedere va pensata una strategia perché altrimenti non si capisce in che cornice inserire una serie di iniziative che comunque stanno accadendo perché il mercato per esempio dell'internet delle cose ha una capacità di sviluppo talmente rapida per cui noi adesso stiamo parlando di cose che probabilmente tra qualche mese il mercato ci supera cioè supera rispetto ai temi che stiamo discutendo l'altra osservazione che volevo fare riguarda proprio la ricerca è ancora anche qua anche qua Federico io vedo un po' un andamento schizzoide nel senso che faccio l'esempio del trasferimento tecnologico così almeno ci si capisce forse meglio io mi sono trovato sono in Human Technopole e a un certo punto Human Technopole è stato investito nella legge di stabilità del scorso anno del ruolo di creazione di una struttura per governare il trasferimento tecnologico nazionale un finanziamento di 10 milioni che vogliono dire niente perché sono troppo pochi diciamo per alcuni obiettivi e magari sono troppi per altri nello stesso momento Regione Lombardia ha individuato negli RCCS pubblici con un finanziamento ad hoc i promotori di attività nell'ambito del trasferimento tecnologico e va bene mi fermo qua ma una mappatura di queste faccende qui probabilmente ci darebbe un quadro ecco un po' appunto schizzoide dice vabbè è Regione Lombardia no allora altro esempio visto che è l'ultimo argomento che volevo affrontare che è il PNRR allora piattaforme tecnologiche di questo stiamo parlando allora in tre mesi io ho visto Human Technopole seguito dell'ammendamento proposto da Elena Cattaneo deve destinare 70 milioni di euro all'anno 75 milioni di euro all'anno per la creazione di piattaforme da mettere a disposizione diciamo nell'ambito della life science da mettere a disposizione la comunità scientifica nazionale arrivano 40 proposte non so cosa succederà perché non c'è neanche lo spazio dove metterle quindi diciamo anche qua non vedo molto raziocinio ma insomma c'è questa roba qua poi il MUR pubblica il bando lo sai con le linee di sviluppo per la ricerca una di queste è una linea sulle infrastrutture non solo life science complessive un miliardo e mezzo di cubatura per 30 proposte il salute pubblicherà dei bandi anzi in parte l'ho già fatto per delle infrastrutture di ricerca nell'ambito della life science ora io ho provato a commentare con Cristina con Beppe Ippolito e la risposta è stata guarda non è che non ci abbiamo pensato è che l'apparato burocratico si rifiuta sostanzialmente di contaminare i percorsi dei due ministeri ok allora l'hai sollevato tu il punto della burocrazia è un punto centrale continua a essere un punto centrale forse in regione Lombardia un margine maggiore di flessibilità diciamo di libertà di iniziativa perché se c'è un quadro solido in testa poi io credo che la regione ha talmente tanti attori e talmente tanto capaci che probabilmente è più produttivo farli fare farli provare farli sperimentare l'ha detto Stefano prima ecco manca quel quadro lì adesso siamo in una situazione in cui c'è c'è mezzo e mezzo per cui siccome nessuno sa bene dove andare tutti si muovono in questo modo per mettere un'etichetta insomma su RNA messaggero ci sono fondi del MUR della salute uguali che probabilmente verranno gestiti da due cordate diverse non è molto sensato l'ultima cosa su PNR anche nel mondo della ricerca io non so bene cosa succederà nel 2026 nel senso che il sistema sta ricevendo dei finanziamenti molto importanti come non ne ha mai avuti non so ripeto come verrà portato poi in stabilità tutto quello che accadrà nei prossimi tre anni perché sono tanti soldi adesso ce ne sono tanti ma poi bisogna capire chi tiene in piedi il sistema chiosa finale un minuto a testa per replicare a questo tema mi pare di poter dire che siamo tutti d'accordo che c'è un tema che abbiamo già messo fuoco che è l'innovazione organizzativa che sottostà poi l'introduzione dell'innovazione tecnologica per sfruttarla nel modo migliore secondo tema è quello che dicevi tu è vero che l'innovazione si produce tumultuosamente all'interno dei sistemi ci mancherebbe altro però poi c'è un costo opportunità ci sono gli sfrisi le duplicazioni le frammentazioni tutto quello che succede quando tu hai soldi che arrivi a diversi rivoli tu sai meglio di me cosa succede poi la competizione è certamente un elemento che genera innovazione ma al tempo stesso quando superano una certa soglia diventa non disruptive nel senso del radicale ma disruptive nel senso del affosso allora ci ho premesso la cosa è quindi prima azione è la creazione di questa non la voglio chiamare agenzia perché il nome agenzia qua è svalutato ormai in questa regione ma questa struttura che dovrebbe in qualche maniera aiutare a riconciliare le fonti e metterele assieme oppure chiedo a tutti e quattro qual è la prima azione da cui partire voglio stimolare su un'altra cosa che mi preoccupa che metterei subito in agenda allora il rapporto col paziente diventerà sempre più figital no abbiamo detto quindi il fisico rapporto fisico e rapporto digitale il fisico passa attraverso noi erogatori di servizi il digitale dobbiamo assolutamente fare in modo che passi da noi per arrivare la presa in cura di cui si parlava all'inizio altrimenti se lo lasciamo e lo demandiamo perché il PNRR col tema del digitale arriverà in ritardo se lo demandiamo alle aziende tech noi rischiamo di perdere quella continuità di cura che ci porta poi alla value base che ci porta poi alla presa in carico vero questo scusa io lo metterei come primo punto in agenda perfetto grazie sì abbiamo ovviamente quello che voi avete evidenziato mi trovo totalmente d'accordo il primo punto da pulca partire è una cabina di regia che definisca la strada la strada che dobbiamo fare mi soffermo soltanto su una cosa probabilmente marginale ma che sta prendendo grande spazio nel dibattito la telemedicina anche qui la telemedicina tutti ne parliamo tutti parliamo di telemedicina ma poi in realtà non c'è un'organizzazione omogenea sulla telemedicina se non c'è un'organizzazione omogenea vuol dire che la cosa non può funzionare chiaro che in vario modo durante l'emergenza covid abbiamo tutti particolarmente l'istituto tumori che a differenza di tanti che erano ospedali covid sul territorio praticamente quasi tutti e di questo ringrazio i colleghi dell'enorme lavoro che è stato fatto negli ospedali covid l'istituto tumori aveva come prima missione preservare l'essere non covid e continuare a seguire i pazienti l'abbiamo fatto in vario modo con le telefonate con i messaggi con le comunicazioni eccetera tutto questo che è stato fatto in un momento emergenziale poi deve trovare un consolidamento in un percorso di telemedicina che sia il più possibile organizzato e condiviso e condotto poi in un modo univoca grazie grazie Luciano ma io prendo per buono quello che abbiamo detto e con le priorità anche che Federico in qualche modo ha tracciato quindi forse coglierei lo spunto cabina di regia regionale partiamo da lì una cabina regionale sull'innovazione tecnologica in cui dobbiamo avere la garanzia che partecipino gli attori fondamentali del sistema quindi indipendentemente che siano pubblici e privati che si occupino di farma piuttosto che di che poi è di settore non di sistema che è di settore quindi c'è l'industria chiaro Gianluca ma sì appunto non ripeto quello che è stato detto io mi tengo basso molto basso scusate però è una proposta che ho già avanzato io credo che regione debba inventarsi uno sportello IRC io credo che chiamare persone che hanno le idee sia la cosa fondamentale per determinare il sviluppo questa è una dimensione che supera regione supera Italia è una dimensione internazionale o meno europea sportello IRC vuol dire che si coordinano delle politiche di attrazione di attrattività nei confronti dei ricercatori migliori al mondo è un'iniziativa che la regione ha già fatto con Cariplo negli anni scorsi poi si è fermata ha avuto ostacoli per il covid sembra poco me ne rendo conto ma credetemi è veramente un motore di sviluppo e di creazione di indotto straordinari grazie e il differenziale che abbiamo rispetto a quegli altri tessuti che ci troviamo grazie grazie mille a tutti e quattro